Angrigento e Cantieri, dopo la consegna delle opere al quadrivio Sfila Santa, il sindaco Lillo Firetto interviene sulla riqualificazione di Piazza del Vespro al Villaggio Mosè. Domenica la posa della prima pietra per la nuova chiesa al Villaggio Mosè in Piazza del Vespro. E il primo passo, anzi il primo passo fu compiuto con il parco di Alice, quel parco giochi per bambini che ha riqualificato un pezzetto della Piazza del Vespro. Con questo intervento che andiamo a varare la prossima settimana, perché la prossima settimana parte la gara d'appalto, 600 mila euro per rifare complessivamente l'intera Piazza del Vespro e riqualificare i due impianti sportivi che si trovano attigui al parco di Alice. In definitiva, chiesa, piazza, parco di Alice, la Piazza del Vespro avrà completamente cambiato la sua connotazione estetica e quindi questo credo che sia un buon passo di rigenerazione urbana.